Infine, lei parlava di un'aste, io diffido di queste formule che non ci hanno portato mai tanta fortuna nella storia e sono un democratico a cui preme la sovranità dei popoli e delle norme, un paese ha dei capi di Stato e di governo e l'Italia ha un capo di governo, la Francia ha un capo di Stato, la Germania ha un capo di governo, se i paesi si mettono d'accordo per decidere qualcosa è a questo livello che succede perché sono loro ad essere responsabili davanti ai loro popoli e ai loro parlamenti.